E' tutto pronto per la grande part del Tour de France. Dopo lo spettacolo della presentazione delle squadre, poche ore separano Firenze dal via ufficiale della Gran Bucla. Un evento di portata globale del resto del Tour e la manifestazione sportiva a cadenza annuale più seguita al mondo. 190 i paesi collegati con il capoluogo della Toscana, raggiunto in queste ore da migliaia di appassionati che hanno reso ancora più affollate le strade del centro. In questi giorni sono circolate varie cifre sull'indotto economico generato dall'evento. Si va dai 20 fino ai 60 milioni di euro. Difficile avere una stima precisa. La presentazione con vista sulla città dal piazzale Michelangelo è stata celebrata anche dalla stampa francese, spesso tutt'altro che tenera con l'Italia. Per i francesi l'Italia è molto importante. Ci sono tanti turisti qui e dappertutto in Italia quindi penso che per i francesi questo evento sia molto emozionante anche. L'ambasciatore francese in Italia è stato ricevuto dal governatore Eugenio Gianni alla vigilia della Grande Parque. Quest'anno il Tour de France, la massima manifestazione internazionale di ciclismo con una capacità di attrazione di più di 3.000 media, televisioni, giornali. Oggi parte sostanzialmente da una Toscana che poi con l'Emilia Romagna e il Piemonte darà una forte personalità a questo Tour. Il Tour renderà omaggio anche alla storia ciclistica della Toscana da Gastone Nencini fino a Gino Bartali. Bartali direbbe l'è tutto sbagliato e tutto da rifare, ma in realtà sarebbe molto contento di essere. Il volto di Gino Bartali è tra quelli racchiusi nelle biglie, non le stesse con cui a molti è capitato di giocare in spiaggia, posizionata in Piazza Duomo. È questo l'omaggio al Tour de France di Karl Kopinski, disegnatore ed artista inglese, protagonista della mostra Reporte Les Jeunes, Vincere il Giallo, allestita tra Piazza Duomo e Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Giunta regionale della Toscana. All'interno i volti del ciclismo scolpiti dalla fatica, la stessa fatica che ha provato l'artista grande appassionato di ciclismo. L'artista che si appassiona molto di tutto quello che fa e che tende ad approfondire eccessivamente quasi ai limiti dell'ossessione. Altrettanto forte è il legame tra Kopinski e la Toscana, grazie a Luca Comics & Games, manifestazione che ha ricevuto dal governatore Eugenio Gianni, il Pegaso d'Oro. Grazie a tutti.